È una partita per la rappresentativa del presbiterio della diocesi che va ad inaugurare un percorso che vogliamo vivere, quindi non è soltanto una partita estemporanea, vogliamo vivere un'esperienza, un'esperienza che ci permetta di approfondire, maturare l'incontro, l'amicizia, la comunione all'insegna dei tanti valori che nello sport si incontrano e che possiamo e vogliamo vivere. I valori dello sport ci aiutano a camminare insieme come clero, una considerazione da cui è nata un'assoluta, singolare e quanto mai moderna iniziativa pensata dall'arci diocesi di Trani Barlette Biceglie che ha deciso di formare una vera e propria scuola di calcio per continuare a trasmettere quei fondamentali valori cristiani anche superando le mura delle chiese. Un'intenzione originale che era stata già manifestata dall'arcivescovo Monsignor Leonardo d'Ascenzo, ufficializzata poi con la nomina di due responsabili, Don Francesco Doronzo e Don Pasquale Quercia, consapevole della funzione formativa dello sport in generale, in particolare nel calcio, come vivere le fraternite, allenarsi all'osservanza delle regole, il sano divertimento, la distensione con gli annessi benefici per la salute. E dopo l'esordio avvenuto il 2 ottobre scorso presso il campetto della parrocchia Madonna di Fatima, la rappresentativa del clero diocesano ha incontrato nello stadio di Liddo di Biceglie la compagine dell'Universo Salute Opera Donuva nell'ambito del trofeo I Beniamini di Donuva, il calcio d'inizio ovviamente affidato all'arcivescovo. Una giornata vissuta all'insegna dello sport, dell'incontro con la squadra dei dipendenti Universo Salute Opera Donuva e anche in compagnia dei tanti ospiti di questa struttura. Centro Universo Salute Opera Donuva per i servizi che offre e l'obiettivo che è quello poi dato dal carisma di Don Pasquale Uva esprime un'accoglienza e una cura nei confronti degli ultimi, delle persone più fragili. C'è bisogno in modo particolare in questo tempo in cui a volte sembra dominare quella che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto sia dei più fragili messi da parte, scartati, dimenticati, c'è bisogno in realtà di accoglierli, di metterli al centro. Allora questo tipo di incontro umilmente vuole dare anche un piccolo segno, un piccolo contributo in questa direzione.